Silvia Toffanin, la nota conduttrice di Verissimo, ha regalato un momento di puro cuore in diretta televisiva che ha toccato profondamente sia il pubblico in studio che quello a casa. Il momento emozionante è avvenuto alla fine della puntata, quando Silvia, poco prima di concludere la trasmissione, ha deciso di dedicare alcuni preziosi minuti alla sua dolce figlia, Sofia Valentina, che compiva otto anni quel giorno. Con gli occhi lucidi di commozione, Silvia Toffanin si è rivolta direttamente alle telecamere del programma per esprimere i suoi auguri più affettuosi alla sua adorata figlia. Oggi voglio dedicare gli auguri alla mia Sofia, che compie eit'anni. Auguri, cucciola, ti amo tantissimo, ha dichiarato con il cuore colmo di affetto. Questo gesto spontaneo e autentico ha scaldato il cuore di tutti gli spettatori, che hanno condiviso con Silvia il suo momento di felicità familiare. L'applauso scrosciante e ininterrotto da parte del pubblico in studio ha sottolineato l'emozione condivisa di fronte a questo affettuoso gesto. Il video di questo toccante momento è stato prontamente condiviso sulla pagina social del programma e in poco tempo ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e affetto da parte dei seguaci affezionati della conduttrice e della trasmissione. Silvia Toffanin, nel mostrare il suo cuore di mamma in diretta, ha dimostrato ancora una volta la sua autenticità e il suo legame speciale con il suo pubblico. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!